Ciao amici, Revotech a tutti! Oggi andiamo a sfringuellare, ad aprire, a guardare come sono fatti questi due smartwatch firmati Ailu, che è un marchio veramente di gran qualità, a prezzi bassissimi. Parliamo infatti di questo Ailu Watch 2 Pro, che viene venduto su Aliexpress a circa 30€ e questo invece Solar Light, che è rotondo, ma in realtà sono molto simili come prodotti, lo trovate invece, questo ha un prezzo di circa 29€, quindi siamo più o meno sullo stesso prezzo. Sono due novità, le andiamo a vedere e aprire insieme e ad abbinarle alla nostra app di monitoraggio e andiamo a vedere come sono fatti e le caratteristiche per questo unboxing e primo avvio di questi due smartwatch firmati Ailu. Venite sul nostro blog ceotech.it, il blog di tecnologia più foico che ci sia, a leggere tutte le nostre recensioni iscritte. Iscrivetevi al canale, likeate a bestia e non vi dimenticate di attivare la campanella delle notifiche. Condividete anche i nostri contenuti. Prima apriamo il nostro Watch 2 Pro, non è dotato di uno speaker dedicato e non è dotato di un microfono, perciò queste funzioni non sono abilitate, però poco male, perché anche io che ho al polso un Galaxy Watch 6 Classic mi ritrovo a usare lo speaker veramente pochissime volte. Lo andiamo a togliere e andiamo ad aprire il primo Ailu, l'Ailu Watch 2 Pro. Scatola di cartone e andiamo subito ad affiancargli il Solar Light, così li andiamo anche a confrontare. Eccoli, qui abbiamo un quadrante rotondo, peso di 45,5 grammi, 240x240 pixel, bluetooth 5.3, 240 mAh di batteria e circa 10 giorni di durata della batteria stimata, con tutto il giorno il monitoraggio della frequenza cardiaca attiva, il P68 e può operare da meno 10 fino a più 60 gradi. E' compatibile con Android 6.0 e successivi e iOS 9.0 e successivi. Le misure di questo Ailu Solar Light sono di, andiamo a togliere la sua pellicolina di protezione, abbiamo una cassa da 46 mm con un cerchio intorno che si può vedere in controluce, anche se non è troppo esagerato, e uno spessore di 9,9 mm. Mi sembra che la cassa sia proprio in metallo, perciò sicuramente come materiali ci siamo. Lo andiamo ad accendere, intanto guardiamo cosa c'è nella confezione e andiamo ad avviare il modello quadrato che è il Watch 2 Pro. Non c'è altro se non il manualino di istruzioni. Ecco qua, vediamo il modello quadrato, togliamo anche qui la pellicola. Come grandezza di display siamo lì. Poi qua entrano in gioco le preferenze, se preferite avere un orologio più simile a uno classico oppure un orologio più simile a Apple Watch, che ormai sappiamo sta spopolando. Abbiamo anche qui un frame di metallo, di alluminio, davvero ben rifinito, con questa texture opaca, davvero ben realizzata. Adesso lo accendiamo, c'è un unico tasto. Cinturini ovviamente in silicone intercambiabili, sono fatti con lo stesso sistema. Qui è nero e qui è bianco, vedete che sono identici praticamente. I due cinturini e sono anche larghi uguali. Vediamo subito, per essere certi, 22 e anche qui 22. Anche qui manualino delle istruzioni e cavetto per la ricarica. Nulla di nuovo sotto al sole. Mettiamoli vicini. Per quanto riguarda l'iLoo Watch 2 Pro, abbiamo un quadrante da 240 x 284 pixel, bluetooth anche qui in versione 5.3, dimensioni 48,82 x 37,70 x 10,83 mm e leggermente più spesso rispetto al Solar Light. Peso 51,4 grammi, quindi è anche un po' più pesante perché c'è più alluminio rispetto al modello rotondo. 250 mAh di batteria, mentre qui abbiamo 240 mAh. Il P68, anche qui 10 giorni di autonomia dichiarata dall'azienda e 20 giorni con un utilizzo invece in modalità risparmio energetico. Anche qua operiamo da meno 10 a più 60 gradi e l'app è iLooFun che andiamo a scaricare subito, anche qua compatibilità con Android e iOS. Andiamo a vedere i menu che saranno pressoché identici. Andiamo a selezionare, ingrandisco un po', sperando che non sgrani troppo la visuale. Andiamo a selezionare la lingua, così vediamo anche la fluidità del display. Qui abbiamo trovato l'italiano. Andiamo a beccare l'italiano anche qui. Bene, adesso mi dice di andare a scansionare il codice QR per la app di monitoraggio, così li aggiungiamo entrambi, sempre se si può aggiungerne due con la stessa app. Cd rotta su Google Play, installa. Vale per entrambi, quindi per quanto riguarda il solar non andiamo a scansionare nulla. Andiamo a fare il login, che è la cosa più rognosa di tutte. Accediamo con Facebook, se me lo fa fare. Non mi fa andare avanti, anche se ho messo continua, vedete. Niente, farò il login con il numero di telefono e ci vediamo appena mi sono loggato, perché qua Facebook vedete che si addormenta in modo clamoroso. Bene, per fortuna avevo salvato un login con la mail e una password che mi ricordavo. Andiamo a impostare tutti i permessi che mi chiede. Autorizzazione all'avvio automatico. Impostiamo. Autorizzazioni. Bisogna abilitare praticamente tutto. Microfono, assolutamente no, perché vedete che non c'è né speaker né microfono. Registri chiamate, sì. Già che ci siamo mettiamo senza limitazioni, così evitiamo che l'app venga chiusa. Ho finito. Completato, sì. Protezione consumo energetico, già fatto. E possiamo andare avanti aggiungendo i nostri dispositivi. Aggiungi un dispositivo. Ecco, ne abbiamo due qui. Vediamo se riusciamo ad aggiungerli entrambi. L'abbinamento sembra una cavolata, ma è importante farlo bene, altrimenti potresti avere dei problemi. Watch 2 Pro. Eccolo qua. E l'ha identificato. Fatto. Continua. Do il consenso. Dovete andare anche qui nell'app iLufan a dare i permessi per le notifiche permanenti. Poi dovete dare i permessi per i messaggi. Notifica dei messaggi. Poi potete togliere quelli che non vi interessano. Ad esempio, non so, LinkedIn. Poi ce ne sono tante altre, vedete che potete andare ad aggiungere YouTube. Outlook. Poi diamo il consenso anche a questa. Qua c'è il database dei quadranti. Ce ne sono tantissimi. E vediamo se possiamo aggiungere anche il secondo dispositivo. Aggiungi un dispositivo. Il Solar, l'avevo visto in fondo, il Solar Lite. Ecco. Ah, c'è scritto. È consentito associare un solo orologio. Per associare un nuovo orologio si prega di scollegare il dispositivo già associato. Allora lo andiamo ad associare a un altro device. Bene, andiamo ad aprire sul nostro Oscar C70. Un telefono che è veramente valido. Ve lo consiglio vivamente come muletto perché è affidabile, è fluido e funziona molto bene sotto i 100 euro. Ovviamente è ottimo. Andiamo a inserire la nostra mail e la password. Diamo i permessi anche qui. Facciamo la stessa procedura che abbiamo fatto con l'Edge 40 e poi dovete dare anche qui tutte le autorizzazioni. Poi andate indietro. Ho finito. Molto bene. Aggiungiamo il dispositivo. Oppure scannerizza. Andiamo a scannerizzare il codice QR. Fatto. Così non dobbiamo andarlo a scegliere nell'elenco. Lui lo sta preparando. Così dopo ci dedichiamo all'app verso la fine e andiamo a guardare i menu dei due orologi che sono comunque pressoché identici. Diamo tutti i permessi anche della localizzazione del meteo eccetera. Le notifiche anche qui. Non è una cosa così immediata. Bisogna essere comunque abituati. Date i permessi alle app che volete che vi notifichino. Abbiamo già visto anche prima. Potete scegliere da qui. Aggiungerle o toglierle. Finito. E adesso possiamo iniziare a usarlo. Ecco qua abbiamo le watch face adatte per il quadrante rotondo. E qui invece abbiamo le watch face per il quadrante quadrato. Eccoli. Sono entrambi collegati. Togger rapidi. Qua sono disposti in questo modo e ci sono solo questi quattro. Mentre qui ne abbiamo sei a schermo. Adesso vado a aumentare lo standby. Tempo schermo mettiamo 25 per adesso. Spegnimento schermo. Qua c'è anche 30. Mettiamo 30. Qui dura di più. Ah dovete bloccare l'app. Ecco questa è una cosa che va fatta. Anche qui bloccate l'app. Blocca. Così le notifiche continueranno ad arrivare sempre. Poi si può aggiungere un quadrante personalizzato. Ma questo lo sappiamo. L'abbiamo già visto diverse altre volte. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Ah qua c'è un aggiornamento. Me l'ha rilevato adesso. Lo andiamo ad applicare subito perché è importante avere l'ultima versione. Intanto guardiamo il menu delle watch face del solar light. Ne sono di belle. Semplici. Non troppe elaborate. Però ben fatte ben realizzate. Graficamente. La scelta non manca. Proviamo ad applicarne una tipo questa. Che mi piace. Vediamo quanto ci mette ad applicare la watch face. Qui mi sta proprio dicendo che sta aggiornando. Vedete anche a schermo. Aggiornamento in corso. Bella questa watch face. Decisamente. Lo schermo sembra AMOLED. Anche se potrebbe essere IPS ma io non vedo nessuna retroilluminazione. Vi dico la verità. Proviamo ad aumentare la luminosità al massimo. Si vede. Si vede che non è AMOLED. Guardate. Non è AMOLED perché la retroilluminazione si vede. Se lo metto vedete anche in questo modo contro luce. È un IPS. Molto ben fatto. Ma è un IPS questo. Dopo andiamo a controllare anche l'altro perché non è specificato nei dettagli della scheda tecnica del prodotto. Qua mi chiede di accedere ancora. Una vera rottura di balle. Scusate. Poi swipe verso l'alto. Mi dà il monitor della salute istantaneo. Il meteo anche. È molto molto fluido e risponde benissimo il touch ai comandi. Poi verso destra ho tutto l'elenco delle app che mi servono. Vibrazione. Andiamo a vedere se c'è anche la modalità forte per chi fa fatica a sentirla. Questa è l'impostazione dell'orario. Codice QR. Spegnimento. Ripristino. Vibrazione. Lingua. Quadrante. Luminosità. Andiamo a trovare a vedere tenendo premuto quali sono i quadranti di default. Me li fa vedere andando da sopra a sotto. Per il momento non ce ne sono altri. Ci sono questi due. Questo l'ho caricato io. Adesso proviamo a indossarlo per vedere come sta al polso. Non sembra di averlo al polso perché è super leggero. Guardate. Vediamo anche la sensibilità al polso. Com'è? Non c'è bello lui il sound display perché non è AMOLED ovviamente. Ecco vediamo. Molto sensibile. Bene. Veniamo al suo compagno e anche qui andiamo a verificare se è IPS o no. È IPS anche lui. Anche se non si direbbe a prima vista perché intanto la definizione e la qualità è strepitosa. Lo dico senza mezzi termini. È veramente bello il display. Non direste a prima vista che è un IPS. Poi andiamo a vedere i vari swipe. Swipe verso l'alto. Vedete ci sono due menu diversi. Qua abbiamo il menu principale. Mentre qui abbiamo il monitor della salute. Con questo invece swipe verso destra. C'è il monitor della salute con la frequenza cardiaca. Il livello di ossigeno nel sangue. Il monitor del sonno. Il meteo con anche le previsioni. Molto bello graficamente. Controllo remoto della musica. E notifiche. Quindi vi consiglio se volete vedere le notifiche al volo. Swipe verso destra. Con questo watch 2 pro. Anche qui la stessa cosa. Swipe verso destra. Però qua invece non abbiamo il menu che prosegue ma possiamo vedere solo le notifiche perché il monitor della salute ce l'abbiamo facendo swipe dal basso verso l'alto. Sono entrambi molto fluidi. Per quanto riguarda il menu delle impostazioni. Andiamo a vedere la differenza. Perché anche qua abbiamo un menu colorato. impostazioni. Andiamo a vedere qui. Eccolo. Qua abbiamo un menu in bianco e nero nelle impostazioni. Mentre qui abbiamo un menu colorato. Con una grafica sicuramente migliore. Almeno una grafica che io sicuramente preferisco. Poi va a gusti. Il contrasto è ottimo. Questo bianco su nero. Si legge benissimo. Forse ancora meglio rispetto a questo. Che ha un font che si legge in modo più piccolo. È più piccolo. oggettivamente più piccolo. Non c'è la possibilità di ingrandire il font. Le voci del menu sono sempre quelle. Però qua dovete andarle a cercare facendo swipe verso l'alto. E adesso li indosso tutti e due per vedere se ci sono differenze di monitoraggio della frequenza cardiaca uno rispetto all'altro. E poi andiamo a vedere un attimo l'app. E poi per questo primo unboxing e prime impressioni è tutto. Il cinturino è morbidissimo. Questo dell'ILU Watch 2 è molto più morbido rispetto a questo che è una gomma che si presenta sicuramente di buona qualità ma molto più rigida. Qui invece c'è una morbidezza completamente diversa. Adesso proviamo a avviare il monitoraggio della frequenza cardiaca qui e anche qui. vediamo. Stando fermi. Ci ha messo un po' a rilevare sul solar light la frequenza. Adesso io sto parlando sono in praticamente anche se sono fermo sono in movimento. C'è una leggera differenza fra i due. Andiamo a vedere l'ossigeno nel sangue. Qui non ho l'ossigeno nel sangue. Vediamo se c'è nel menu principale. Sì ce l'ho. Monitoriamo su entrambi. Sul solar light ci mette molto molto di più a misurare sia la frequenza cardiaca che l'ossigeno nel sangue. Vedete che qua l'ha già misurata due volte su quello sopra mentre qui ci ha messo molto. Come misurazioni siamo circa lì. Qui non ho tensione che non so esattamente cosa sia. Non vorrei che sia la pressione o una roba simile. Andiamo a vedere sul menu se ho questa voce. frequenza cardiaca sono pressione. Qua fosse la pressione e qua invece mi dice tensione che è esattamente la stessa cosa perché vedete che l'icona è la stessa. Perciò la tensione abbiamo scoperto che è la pressione. Proviamo a vedere cosa dice sulla pressione. È un parametro ovviamente che non misura la pressione arteriosa perché lui utilizzerà i vari sensori per dirmi se ho qualche anomalia secondo lui ovviamente. Vediamo. Dice normale mi fa il sorrisetto con la faccina. Sotto mi dice invece che sono fregato. No spero di no. Normale. Per essere due PS sono davvero due smartwatch bellissimi dal punto di vista della qualità del display. La fluidità è ottima su entrambi. Qui devo dire che è un po' più scattosa. Qua è un po' più morbida invece la fluidità che non significa che c'è una risposta migliore. Qua c'è solo una watch face poi andremo a provarne altre ma vedete che nella sua app di monitoraggio ne trovate a bizzeffe. Vedo che in modalità rettangolare ce ne sono di più belle. Come grafica mi sembrano più curate e un pochino più ottimizzate. Ecco vedo che a livello grafico forse sono un po' meglio quelle rettangolari anche se quelle rotonde forse ce n'erano di più come quantità. Adesso andiamo a vedere. Ecco la quantità qui era considerevole però vedete che sono un po' più scarne, un po' meno articolate e un po' meno dettagliate. Ecco ovviamente la visuale su un rettangolo per certi versi soprattutto quando si leggono le notifiche, le mail eccetera è agevolata perché si vede una porzione di schermo secondo me più ampia ed è più facile andare a leggere le notifiche. Tutto qua. Ci sono i servizi di terze parti potete aggiungere Google Fit, gli obiettivi. Ecco che c'è un altro aggiornamento della versione Solar. Ecco che la stiamo già applicando sperando che non mi faccia fare il login anche dopo. Bene poi in questa schermata principale ci sono tutte le attività che vengono sincronizzate in tempo reale. Qui c'è il GPS che vi identifica al distante. Ovviamente non hanno GPS integrato nessuno di due perché per 30 euro non potete certo pretendere un GPS dedicato. Monitoraggio della salute. Vedete? Pressione. Lui monitora la pressione tutto il giorno. Quindi c'è il monitor della pressione ovviamente secondo i parametri stabiliti dall'app. Non prendetelo mai come un dispositivo medico perché non è così. Ossigeno nel sangue lo potete tenere attivato anche qua in background tutto il giorno. Qui ha aggiornato. Salute. Qui non abbiamo il monitoraggio automatico dell'ossigeno nel sangue tutti i giorni. Non è disponibile. C'è solo frequenza cardiaca e pressione. Come monitoraggio. Se volete andare a guardare invece l'ossigeno nel sangue dovete aprire l'app dedicata. Qua le impostazioni del meteo. Notifica chiamate che va abilitata da qui. Promemoria sedentarietà. Promemoria farmaci. Sveglia. Impostazioni del dispositivo. Abbiamo lo stesso identico menu anche qui. Qui abbiamo in più trova l'orologio. Ecco qua vedrete chi vi chiama. localizzazione in corso. Anche qui meteo impostato. Promemoria sedentarietà. Qua è diviso per categorie il tipo di attività fisica. Qua invece c'è l'elenco direttamente completo e se ne possono poi aggiungere altri in base alla categoria che scelgo. Qua è tutto invece all'interno del menu. Organizzazione che preferisco. Le differenze fra i due sono nella organizzazione dei menu nella grafica e in alcuni menu che qua sono più curati. qua meno però qua abbiamo un carattere più grande che si legge sicuramente meglio senza ombra di dubbio. Qui abbiamo una definizione leggermente maggiore perché abbiamo una risoluzione più alta però la resa vi assicuro che dal vivo è molto molto simile. Allora sono due prodottini molto interessanti. 29 euro 31 euro su Aliexpress. Metteremo il codice coupon. Sotto abbiamo due display bellissimi IPS non credevo. Pensavo fossero AMOLED perché sono luminosi definiti fluidi che si vedono benissimo in ogni contesto. Materiali molto molto validi perché abbiamo cassa di alluminio e anche qui cassa di alluminio addirittura opaca. Con questo trattamento vedete davvero ben rifiniti e sembrano orologi che valgono decisamente di più tenendoli in mano e provandoli non direste che valgono solo 30 euro ma almeno 50-60. E questo è un dato di fatto perché davvero sono ben realizzati. Detto questo salutiamo tutti gli amici malati di smartphone, di smartwatch e tutto il loro network su Telegram. Venite a visitare il nostro blog cerotech.it, il blog di tecnologia più faigo che ci sia a leggere tutte le nostre recensioni iscritte. Vi aspettiamo anche sul nostro gruppo Rebotech Group, sempre su Telegram. Iscrivetevi al canale, likeate a bestia e condividete i nostri contenuti. Ci vediamo prestissimo per tante altre chicche e contenuti. Un saluto da Pasqui e Rebotech a tutti. Ciao!